Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Perché studi e dimentichi tutto, o quasi tutto, in poco o pochissimo tempo? Se parliamo di studio, soprattutto a livello universitario, probabilmente non esiste un dilemma più importante di questo, quindi non esiste una domanda, potremmo dire, a cui si cerca di trovare una risposta che sia quella corretta, il più possibile corretta e soprattutto efficace. Perché capire il meccanismo per il quale riusciamo a magari studiare, capire qualcosa, anche avere la sensazione di ricordarlo, però poi arrivare a dimenticare tutto poco dopo, nonostante siamo stati sicuri di aver capito e memorizzato, potrebbe diventare veramente un dilemma, un enigma e qualcosa da risolvere, perché poi a lungo termine diventa un problema. Quindi, cosa succede quando abbiamo la sensazione di aver capito e memorizzato, ma in qualche ora, certe volte anche in qualche minuto, sembra che tutto quello che abbiamo fatto è stato inutile, quindi è stato vano, che possiamo andare a buttare tutto lo sforzo fatto, che non abbiamo concluso niente nella sessione di studio, nel tempo che abbiamo scelto di dedicare allo studio. Quindi, vediamolo insieme, vediamo cosa succede, qual è il modo più comune di andare avanti a studiare le informazioni, per esempio di un testo, e cerchiamo soprattutto di adottare una soluzione che possa essere il più possibile efficace. Quindi, partiamo da questa disposizione temporale. Quindi, per esempio, ho chiamato come regoletta di riferimento di questo grafico so, ma poi dimentico, perché in realtà c'è un momento in cui abbiamo la sensazione di aver capito che cosa stiamo studiando. Questo grafico è abbastanza semplice. Parte dal presupposto che da sinistra a destra abbiamo una sequenza di giorni ogni giorno dedicato allo studio di un capitolo che sono rappresentati da questi rettangoli così che vanno un po' a sfumare per farti capire che sono un insieme che poi costituisce, per esempio, un testo, come dicevamo qualche istante fa. Quindi, per esempio, il giorno 1 inizi studiando il primo capitolo, poi il giorno 2 lo dedichi al secondo, il giorno 3 lo dedichi al terzo e così via finché arrivi a studiare l'ottavo capitolo in circa otto giorni. Risultato ottimo che comunque caratterizza già chi è in grado di mantenere una ritmicità, potremmo dire, nel modo di distribuire quanto fare nel tempo a disposizione. Ora, emerge però un problema. Perché facciamo l'ipotesi di posizionarci nel terz'ultimo giorno, quindi il giorno numero 6, quando studio il sesto capitolo, probabilmente se non ho ripreso in nessun modo informazioni dei capitoli precedenti non ricorderò nulla di quello che ho fatto praticamente quasi una settimana prima. Quindi questo è un grosso problema che dobbiamo cercare di risolvere perché questo accatena più tempo passa e più ci porta a non ricordare nulla. Questo può essere portato anche più estremo, in un caso più estremo, come abbiamo accennato qualche momento fa, quando addirittura dopo qualche minuto non ricordi nulla. Quindi qualcosa l'hai studiata, ma non sembra possibile ricordarla anche dopo uno, due ore, mezz'ora. Quindi questi sono problemi di approccio in generale. Non c'è niente che non va nella tua testa o nel maggior parte dei casi utilizzi un metodo che è abbastanza buono per poter studiare. In media si utilizzano delle tecniche che a livello di principio sono corrette, ma nell'applicazione poi questo diventa un po' deficitario. Quindi cerchiamo di capire qual è il giusto approccio che dovresti sviluppare, seguendo sempre questo esempio, ma che poi in realtà si può applicare a qualunque cosa studi, anche se parliamo di ricordare ciò che viene detto a lezione, ad esempio. Quindi non è esclusivamente legato ad un testo universitario. Quindi questo è uno schema che ho chiamato Soma Non Dimentico, anche se sappiamo che la memoria è una parte fondamentale, ovviamente, dell'apprendimento, ma non è l'unica. L'importante è la comprensione. Se fai delle materie in cui sono presenti gli esercizi, è importante saper ricreare il ragionamento che ti porta alla risoluzione degli esercizi, ad esempio. Quindi come viene sviluppato, invece, questo schema che è quello che ti consiglio di adottare? Partiamo dal primo giorno. Ho semplificato, il primo sta per primo capitolo, e quindi sta anche per primo giorno, e infatti quel giorno lo dedichi a studiare il primo capitolo. Il secondo giorno lo dedichi a studiare. Inizia a studiare il secondo capitolo, ma prima di fare questo, come vedi c'è un piccolo rettangolino in basso del colore del capitolo del giorno precedente, devi riprendere le informazioni. Quindi devi fare in modo di alimentare in prima persona questa capacità di ricordare le informazioni. Ti stupirai di quanto il giorno dopo, subito dopo, quindi la lettura, quindi questo non vale se riprendi il capitolo dopo una settimana. Il giorno dopo, riprendi le informazioni, riuscirai a ricordare e anche a capire qualcosa in più in modo molto più rapido rispetto al tempo che hai correttamente investito il giorno precedente per studiare da zero le stesse informazioni. Per questo, per esempio, nel secondo giorno ti consiglio di dedicare una parte, bastano dieci minuti, al ripasso, potremmo chiamarlo così, di quello che hai fatto il giorno precedente e crea quel legame, quel collegamento per poi continuare con le nuove informazioni che nel caso del secondo giorno poi sono quelle del secondo capitolo. Questo stesso ragionamento lo puoi applicare per passare dal secondo al terzo. Infatti, nel terzo giorno, prima di studiare il terzo capitolo, riprendi in parte le informazioni del giorno precedente. Ora, se continuassimo così con tutti gli altri giorni, a un certo punto potresti dirmi sì, va bene, io il primo giorno l'ho fatto, poi il secondo giorno l'ho ripassato, ma da quel giorno in poi non l'ho ripassato in più. Quindi, cosa dobbiamo fare per risolvere questo possibile, questo potenziale problema? Ho riservato il quarto giorno, non il quarto capitolo, ma ho riservato un giorno solo di ripasso, quindi un giorno in cui devi fare il punto di quello che hai fatto fino a quel momento, nel primo, nel secondo e nel terzo giorno e quindi sostanzialmente nel primo, nel secondo, nel terzo capitolo. Considera questo un po' come un giro di boa, quindi la necessità di fissare un po', di riprendere le informazioni. Non è assolutamente un giorno che stai sprecando e che invece avresti potuto utilizzare per studiare il capitolo successivo, perché altrimenti rientri nuovamente nel loop che abbiamo visto nello schema precedente che poi ti porta a dimenticare tutto. Quindi questo, come abbiamo visto, l'abbiamo applicato nei primi tre capitoli e questo può valere tranquillamente anche, per esempio, per tre lezioni, nel quarto, scusami, nel quinto giorno e ricominci dal quarto capitolo. E il ragionamento è esattamente lo stesso di quello che abbiamo visto per il primo, il secondo e il terzo giorno. Quindi c'è sempre una parte del giorno precedente in quello successivo, sicuramente una parte minoritaria, ma deve esserci, e poi, dopo che hai studiato tre, quattro capitoli, un giorno lo dedichi esclusivamente a riprendere tutte le informazioni che fino a questo momento hai compreso e hai studiato. Questo ti aiuta non solo a fissare meglio le informazioni, a rivederle ogni giorno. Potremmo dire che ogni giorno queste fanno parte della tua quotidianità, quindi quando cominciano a presentarsi di volta in volta ogni giorno, uno dopo l'altro, poi ovviamente tenderanno a rimanere in memoria perché a un certo punto potresti anche annoiarti di sentire sempre le stesse cose ed è questa la ripetizione a cui vuoi puntare e questo poi ti permetterà anche di avere più fresche, quindi più attive le informazioni che hai acquisiti in precedenza per comprendere quelle nuove. Certe volte nel primo capitolo c'è una definizione importantissima, ma quando arriviamo a studiare il settimo capitolo in cui quella definizione è utile non la ricordiamo assolutamente. Quindi in questo modo invece le informazioni rimangono più attive, riesci a creare dei collegamenti rapidi tra i contenuti dei vari capitoli. questo si applica quindi sia nello studio a livello dei giorni ma poi applicarlo anche nella stessa giornata. È molto utile per esempio utilizzare un rapido ripasso di quello che è fatto il giorno e il giorno prima o quello che è fatto per esempio la mattina poco prima di ricominciare con la nuova sessione di studio sempre nella stessa giornata. quindi questo è quello che ti voglio proporre non solo come prospettiva che fa nascere questo dilemma questo problema è un reale problema di non riuscire a ricordare o avere la sensazione di non riuscire a memorizzare e quindi avere delle informazioni affidabili in mente e questo di conseguenza è anche la soluzione che ti propongo per riuscire a prendere più sotto controllo quello che hai da fare. Questo ovviamente si aggiunge e si associa a quella che è più in generale la spaced repetition quindi non solo in termini di ripetizione orale delle informazioni ma ripetere le stesse cose da fare nel tempo in modo distribuito dilazionato possiamo tradurla come vogliamo la cosa importante è che deve avvenire nel tempo lungo il tempo non tutto troppo concentrato quindi ti ringrazio intanto per l'attenzione che mi hai dedicato se hai dei dubbi ancora delle incertezze o hai qualche problema nello specifico ti invito a scrivere nella sezione dei commenti o in privato sicuramente ormai già lo sai tutti i link sono nella sezione della descrizione se vuoi usufruire di altri servizi soprattutto vuoi un approccio più personalizzato da ieri sono aperti gli abbonamenti al mio student priority tutto quello che ti può interessare nella pagina del mio canale quindi ti rimando a quello se ti può appunto interessare se ti può invogliare a studiare meglio ad essere seguito o seguita con maggiore attenzione il video di oggi comunque finisce qui quindi ne approfitto nuovamente per ringraziarti e con moltissimo piacere ti aspetto nel video che uscirà domani e con moltissimo piacere